Si è conclusa ad Agropoli sabato 20 luglio l'iniziativa Missione Ecologica per sensibilizzare ed educare i cittadini, soprattutto i più giovani, ad un corretto smaltimento dei rifiuti. Sono soddisfatto perché qualsiasi evento positivo che crea aggregazione, che è volto al bene della comunità, al rispetto delle persone, dell'ambiente non può che trovare favorevole il parroco e tutta la comunità. È un'occasione per stare insieme, è un'occasione per vivere un evento positivo a vantaggio di tutti, dei giovani, dei ragazzi, degli adulti, di tutta la comunità perché la Missione Ecologica attiene alla nostra casa comune che è il creato, laddove tutti quanti noi viviamo. Allora quando più imbariamo a rispettarla, a prendercene cura, tanto più viviamo bene. Lo scopo è sempre l'annuncio del Vangelo che passa attraverso il rispetto della natura e anche il rispetto delle altre creature, la più grande creatura che sono gli altri uomini e donne del pianeta, per cui noi passeremo un momento molto bello con questi giovani parlando dell'ecologia. Io credo che sia estremamente importante sensibilizzare i cittadini e in questa fase estiva soprattutto i turisti perché quando vengono qui spesso non sanno neanche come differenziare i rifiuti. Lo vediamo dal fatto che purtroppo in questo periodo la nostra città diventa più sporca, si lasciano i rifiuti in modo indifferenziato e sulla spiaggia ci sono tanti rifiuti, in particolare mozzicone di sigaretta. Quindi sensibilizzare i cittadini è fondamentale. Noi crediamo molto nella funzione educativa che parte proprio dai ragazzi perché loro sono il futuro e loro possono anche con le famiglie aiutare in questa campagna che aiuta a differenziare bene i rifiuti e sensibilizza sul fatto che i rifiuti non vanno buttati sulle spiagge, a mare e per le strade. In che modo secondo voi si può migliorare l'ambiente? Ma essendo più rispettosi di ciò che abbiamo intorno, cercando di fare anche se un po' ripetitivo, cercando di fare anche il meglio nei piccoli gesti e informandosi sempre più possibile perché non ci accorgiamo che certe cose inquinano e che facendo altre cose potremmo inquinare molto di meno. Secondo me prima di tutto bisogna cercare di essere meno egoisti perché ognuno nel suo piccolo può fare molto per l'ambiente perché è l'uomo, l'inquinamento è soltanto di origine antropica, quindi l'uomo anche preso come singolo può modificare la situazione attuale. Grazie. Grazie. Grazie.